Ciao Agostino, ciao a tutti i ragazzi. Oggi abbiamo un ospite speciale, se mi permetti ti presento io, poi ti cedo la parola. Agostino Santoni è il vicepresidente di Cisco Sud Europa, quindi Cisco per chi non lo sapesse è un colosso della tecnologia mondiale che va a mercato da 50 miliardi di dollari, visto che questa è una piattaforma nella quale si parla molto di tecnologia, ci sono un sacco di ragazzi che sono appassionati all'argomento e visto che abbiamo fatto una serie di dirette nelle quali abbiamo parlato un po' delle nuove professioni, abbiamo parlato dei content creator, siamo stati addirittura in diretta alla Formula E, questo lo dico a te Agostino, per riuscire ad affrontare un tema in particolare, quello delle nuove professioni, per esempio i meccanici, di cui io avevo parlato in una diretta dicendo ai ragazzi che ci sono anche professionalità come quelle tradizionali, esempio i meccanici che oggi affrontano questo tipo di professione in maniera completamente diversa rispetto a quello che ci si potrebbe immaginare, quindi ci ho tenuto a provarle a portare nei box della Formula E per far vedere sia l'impatto green, sia un mestiere che è un mestiere apparentemente antico o quantomeno nell'immaginario collettivo tradizionale, ma in una veste completamente diversa, questo è un po' per dare l'idea di come poi la passione si possa applicare anche all'ambito professionale. Con te abbiamo condiviso un progetto grande oltre a collaborazione già da quando siamo a funzione pubblica, da quando ero a funzione pubblica e lì abbiamo un po' parlato della formazione del personale pubblico sul fronte digitale, sulle interconnessioni delle banche dati e con te abbiamo aperto il progetto sei uno dell'azienda che aderisce al progetto Open Doors che è di orientamento sostanzialmente per i ragazzi e quindi ho pensato di portarti qui su Twitch a fare una diretta per raccontarci la tua esperienza innanzitutto chi sei, che cosa fa Cisco, come sei arrivato a ricoprire questo ruolo perché tu di fatto sei il CEO non solo il CEO, l'amministratore delegato, diciamola l'italiana in maniera un po' più semplice di Cisco Italia ma segui tutto il sud Europa, quindi Spagna, Portogallo, Israele oltre che l'Italia, quindi hai un lavoro importante oggi ho visto anche Forbes aperto dedicandoti una bellissima intervista per cui dici qualcosa di te ma innanzitutto grazie, è un piacere veramente partecipare a questo momento e complimenti perché ti sto seguendo vi sto seguendo e pensare questo pomeriggio di poter avere un dialogo diretta con così tanti giovani devo dire sono anche un po' emozionato, poi hai ragione, sono contento dell'intervista Forbes in realtà mi dovrebbe aiutare tantissimo perché mia mamma che ha 89 anni ancora mi chiede che lavoro faccio allora mi sono presentato con l'intervista, mi ha guardato e fa ma cosa diavolo stai facendo quindi ancora ci devo lavorare, però grazie mille, io sono molto orgoglioso del percorso professionale che ho fatto è stata una strada interessante perché devo dire sono ragionevolmente appassionato di tecnologia cioè non nasco super appassionato, uno smanettone, io non sono uno smanettone non sei uno smanettone, ti facevo super smanettone un paio poi mi sono appassionato alla tecnologia ma ho anche studiato da programmatore all'istituto tecnico ero un programmatore di informatica, tornando indietro sono digitalmente giovane ma ho qualche anno e all'epoca si studiava, si iniziava a studiare informatica considera che io mi sono diplomato in informatica senza mai usare un computer su carta, fantastico adesso sembra, non ho 150 anni anche perché se tua mamma è ancora viva appunto, però diciamo ho perseguito questo percorso nel nostro settore della tecnologia e ho iniziato proprio dalla base, le competenze tecniche poi dopo ho iniziato con il marketing e sono sempre stata una caratteristica che mi ha sempre aiutato nel percorso della mia carriera è stata la curiosità e penso che il primo lavoro, la mia prima ambizione che sembra così fuori dal mondo che viviamo la prima ambizione era da tecnico era quello di dire un giorno vorrei indossare la cravatta perché aveva quest'idea del tecnico che andava presso le grandi banche verso fare la manutenzione e quindi si vedeva queste persone ben vestite tutte ordinati anche a me piacerebbe un giorno fare quel lavoro poi insomma il tempo è andato avanti e attraverso la curiosità e soprattutto ho imparato quanto sia importante la relazione tra le persone con le persone e ho imparato e continuo a imparare quanto sia importante soprattutto nella gestione delle organizzazioni trovare il modo di ridistribuire energia io infatti ti volevo chiedere questa cosa visto che ho letto non solo tua mamma ma anch'io l'intervista su Forbes ti sei definito un appassionato di innovazione quella buona che aiuta ad essere più inclusivi parli sostanzialmente della tua passione per i progetti di inclusione sociale di cui io in parte qualcosina so però meriterebbe anche d'accontrare quando ho iniziato da ormai otto anni sono in Cisco e devo dire che è molto interessante questo anche per i giovani lo ritengo interessante quando tu hai la possibilità di scegliere e hai la fortuna di avere una possibilità di trovare un posto di lavoro ragionare bene come persona che entra nel mondo del lavoro qual è lo scopo dell'azienda nella quale potrai entrare a far parte è importante e lo scopo di Cisco e lo dico perché è molto importante secondo me in questo periodo è alimentare un futuro inclusivo per tutti e allora immagino i ragazzi e dico ma che vuol dire questa cosa esatto concretizzala con degli esempi proprio pratici allora noi abbiamo questa attività delle nostre Cisco Academy che sono proprio sono circa 400 in Italia per intenderci buona parte di questi sono istituti tecnici classi degli istituti tecnici in Italia distribuiti e formano i docenti che sono dipendenti pubblici che vengono formati da noi e formano i ragazzi ragazze e ragazze di qualsiasi età a partire dalle medie e poi gli istituti tecnici e le università su alcuni temi molto semplici come funziona internet cosa vuol dire la cyber security cosa vuol dire l'industria 4.0 e come si fa il coding lo smanettone e come si diventa smanettone e abbiamo a un certo punto scelto degli academy speciali abbiamo detto va bene dare la possibilità a tante ragazze e ragazzi ma a noi piace in particolare io sono molto appassionato di questo tema di dare anche una seconda possibilità alle persone e abbiamo aperto queste academy in posti particolari abbiamo iniziato dal carcere di Bollate al maschile al femminile poi siamo andati a Secondigliano e abbiamo scoperto che anche lì ci sono ragazze e ragazzi di tutte le età che sono appassionati di tecnologia e vogliono riguardare il mondo e vogliono pensare di avere una seconda scelta e pensare che nel piccolo noi diamo e io do un piccolo contributo al loro futuro ecco di tutte le cose belle del mio lavoro forse questa è la più bella beh sì è molto bella mi ricordo che ne abbiamo parlato nei primi incontri che abbiamo fatto tra l'altro l'abbiamo fatto da remoto perché abbiamo ancora avuto occasione in questo tra questo 2020 e 2021 di vederci dal vivo per cui abbiamo sempre fatto incontri da remoto ed effettivamente ricordo che è stato una delle prime cose di cui mi hai parlato oltre all'Academy e anche le progettualità per i ragazzi che sono detenuti ma ascolta per essere proprio chiarissimi e semplicissimi se un ragazzo che sta seguendo questa diretta volesse provare a fare un corso con Cisco dov'è che trova le informazioni premesso che io te lo dico non ho avuto modo di venire sul sito vostro e guardare un po' le informazioni per fornirle se qui le spieghi in maniera molto molto lineare semplice direi diciamo una considerazione è che i nostri corsi non sono non hanno alcuna valenza commerciale e non hanno alcuna diciamo finalità di venderlo proporre qualcosa sono un'attività che per noi sono di responsabilità sociale e si racconta come funziona internet ad esempio come fare per poter partecipare ai nostri corsi che sono una parte sono gratuiti e non sono semplici però cioè sono gratuiti mi stai stimolando a provarli è facile basta andare sul nostro sito sul sito di Cisco e poi vi si viene rindirizzati dove si trovano le nostre academy sono distribuite in tutta Italia sono più di 400 quindi sono nelle scuole in tantissime scuole in Italia nelle università in centri di formazione in tante non profit uno dei progetti magari lo commentiamo dopo anche con comunità Sant'Egidio perché abbiamo fatto un'academy con loro per le persone senza fissa dimora però tornando ai ragazzi diciamo sul nostro sito trovano le indicazioni e per chi è appassionato vuole appassionarsi di tecnologia perché Cisco fa tre cose tu mi dicevi prima cosa fa Cisco allora vi dico come l'ho raccontata a mia mamma e dunque noi facciamo funzionare internet quindi abbiamo le chiavi per accendere e spegnere internet nel senso che la nostra tecnologia noi abbiamo inventato dato un contributo enorme a rendere internet un grande strumento di democrazia quindi il modo in cui i dati si trasportano sulla rete e buona parte del mondo utilizza la nostra tecnologia il secondo mestiere che facciamo è quello di proteggere i dati attraverso la protezione contro il cybercrime quindi noi siamo i buoni che combattono i cattivi e solo per darti un'idea noi ogni giorno blocchiamo 80 miliardi di attacchi e dici ma che vuol dire come si contano 80 miliardi di attacchi allora per darti un esempio di quanto è grande questo tema il numero di volte che tutti noi nel mondo ogni giorno googoliamo qualcosa per dire sono un ragazzo adesso fammi vedere fammi googolare e guardare chi è Agostino Santoni tipo questa cosa qua noi ogni giorno la facciamo tipo 4 miliardi di volte tutta la popolazione mondiale quindi immagina cosa vuol dire 80 miliardi di attacchi quindi noi difendiamo diciamo la rete per quello che sono appassionato di innovazione buona perché c'è internet buona e internet è la rete buona e la rete cattiva o meno buona diciamo così quindi il terzo che è l'altra area di grande attenzione per noi a noi piace attraverso la tecnologia far parlare collaborare le persone le persone tra le persone le persone con le macchine le macchine con le persone quindi facciamo questi tre lavori ci ho detto l'ho spiegata così ma non sono ancora riuscito a spiegare a mia mamma che lavoro faccio e spero che qualche giovane abbia compreso di cosa si occupassiscono è complicato effettivamente perché salvo che uno insomma non lavori direttamente come no ma lei a parte scherzi l'hai spiegata abbastanza bene certo forse quello che incuriosisce di più è sapere anche che tipi di professionalità cercate un po' all'interno dell'azienda perché tu oggi sei il vicepresidente di un colosso di questo genere per tutta l'area sud Europa per cui hai chiaramente un livello altissimo all'interno dell'azienda come diciamo spesso non è che nell'azienda possono essere tutti amministratori delegati o tutti CEO però che tipi di altre professionalità cercate cercate tutti i laureati cercate persone che si siano diplomate agli istituti tecnici cercate smanettoni e basta che selezionate in un'altra maniera come li hai chiamati informalmente tu diciamo che se guardo il nostro percorso noi abbiamo iniziato siamo in Italia da tipo 26 anni e un po' abbiamo iniziato con gli ingegneri donne e uomini anche se è sempre stato complicato all'inizio trovare donne e ingegneri adesso fortunatamente si è un po' aperto il mercato però quindi è percorso universitario selezione e quello è stato per tanto tempo diciamo il percorso tradizionale per le persone che sono all'interno della nostra azienda ormai da tanto tempo ormai da qualche anno cerchiamo figure professionali molto più allargate recentemente abbiamo assunto una filosofa una filosofa sì 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 che c'entra la filosofia con la tecnologia c'entra perché dico che c'entra perché è sempre di più evidente che la competenza serve cioè quella valigetta degli attrezzi che tutti noi dobbiamo avere è evidente che c'è però stiamo privilegiando tantissimo i soft skills quindi alcune caratteristiche delle persone perché questo fa la differenza nel mercato che noi stiamo vedendo è tipo scusami se ti chiedo proprio che tipo di soft skills che tipo di competenze ad esempio fortissimo la capacità di collaborare tra le persone per noi è fondamentale perché perché è parte di un'azienda globale parte di organizzazioni che sono fortemente distribuite in tutto il mondo e quindi la capacità di lavorare tra le persone è fattore critico di successo per darti un esempio nel mio precedente lavoro quello di amministratore delegato di Cisco Italia quando si dice cavolo il 75% delle persone che lavoravano con me non rispondevano gerarchicamente a me ma rispondevano a persone a manager e organizzazioni che erano su scala globale allora quale caratteristiche servono alle persone non solo a me ma tutte queste persone per poter da una parte essere concentrato sugli obiettivi strategici dell'azienda ma guidare un'organizzazione dove tu non sei la persona per essere più specifico al quale tu non dai l'aumento di stipendio e quindi come saper collaborare tra le persone per noi quando valutiamo le neoassunte e i neoassunti è un fattore di rilevanza fondamentale l'altro l'aspetto caratteriale emozionale cioè come si pone la persona che capacità di comunicazione ha che tipo di ambizioni ha cioè come lo si vede quando si fanno questi colloqui ecco la parte che noi chiamiamo di soft skill rispetto al passato è sicuramente molto più importante rispetto a come selezionavamo le persone nel passato quindi oggi fate molto più attenzione a questo tipo di caratteristiche perché poi alla fine diciamo le competenze hard quelle tecniche uno anche con dei corsi le può potenziare quelle altre diciamo che quasi o ci sono o è difficile riuscire ad acquisirle se non con esperienze di vita con esperienze professionali perché poi la gestione delle dinamiche di gruppo io l'ho imparato anche lavorando all'interno della camera e facendo il ministro soprattutto la gestione delle dinamiche di gruppo è uno penso dei punti più delicati da riuscire a raggiungere come obiettivo lavorativo avere una competenza di questo genere riuscire a coordinare delle persone in un'attività lavorativa evitando che si creino frizioni riuscendo a tirare fuori il meglio da tutti è la parte più beh tu fai un mestiere molto molto complicato quindi in questo è sicuramente una peculiarità importantissima l'altra componente sulla quale stiamo investendo tanto sulle nostre persone è la capacità di comunicare perché anche questo tra le persone nel modo in cui ci si esprime di relazionarsi con gli altri quindi non di comunicare per esempio come la intendo io in maniera semplicistica perdonami se lo dico così i prodotti che fa la Cisco verso l'esterno proprio una capacità di comunicazione interna sì e questa idea di diciamo della narrazione di utilizzare diciamo non solo la componente emotiva non solo la competenza diciamo la componente della competenza che hai o del tuo fisico quando comunica ma metterle tutte insieme e creare l'intento cioè tu quello come tu vuoi comunicare alle persone è un altro fattore di una importanza straordinaria che vale nella in questa intervista che vale nel rapporto delle persone in una riunione che vale nel modo in cui si fa una conferenza stampa diciamo il tema delle competenze tecniche del soft skill e della capacità di comunicare sono tre grandi pilastri ai quali noi diamo tantissimo credito e sui quali stiamo significativamente investendo sulle nostre persone perché così noi vediamo l'evoluzione della tecnologia e così anche vediamo come sta evolvendo diciamo il mondo che ci stiamo immaginando se volessi raccontare anche come ve lo state immaginando chiaramente per sommi capi perché tu prima hai detto guardiamo a questo tipo di competenze anche nell'ottica di quello che è un po' l'evoluzione del mondo a cui stiamo provando a buttare un occhio passami la semplificazione ora senza andare troppo nel dettaglio ma che cosa intendi guarda io sono un tecnico quindi non ho l'ambizione di dare così tanta visione ma trovo affascinante il percorso che sta facendo la tecnologia e nella tecnologia ci sono noi abbiamo in Cisco 26.000 ingegneri quindi quando si parla di innovazione tecnologica da noi è come parlare scusa l'esempio della partita del derby al sabato quando la partita alla domenica quindi siamo tutti allenatori di calcio siamo tutti allenatori di nazionale siamo tutti esperti di innovazione ok e abbiamo diciamo i nostri colleghi i nostri colleghi hanno evidenziato che un denominatore comune di tutte le nostre tecnologie devono avere quattro caratteristiche fondamentali tutto quello che noi facciamo devono essere semplici devono essere aperte programmabili e intrinsecamente sicure e allora dico questa è la tecnologia a un certo punto ho detto ma come deve essere un'organizzazione mi piacerebbe lavorare in una Cisco che è semplice aperta programmabile e sicura sì come mi piacerebbe una città certo un paese allora mi piace pensare che alcune delle caratteristiche che derivano da quest'idea della tecnologia possano anche essere delle idee di sviluppo di organizzazione di imprese di di modelli di modelli questa idea della semplicità mi viene in mente immagino il tuo precedente lavoro la semplicità il lavoro che è stato fatto nel semplificare la vita dei cittadini o il tema della sicurezza digitale cioè ci sono il tema dell'apertura ad esempio noi siamo molto io sono personalmente impegnato nel dimostrare che il digitale non deve dividere ma deve includere fondamentale cioè abbiamo imparato ancora di più questo anno che abbiamo vissuto tutti insieme durante la pandemia cioè se pensiamo per quanto tempo pensavamo a ragionare se serviva o no nel nostro meraviglioso paese la banda ultralarga io ho partecipato a cento convegni su questo cento mi sa che sei stato riduttivo conservativo ma è ancora una domanda questa cioè c'è ancora qualcuno che si domanda se servono la banda ultralarga o un diritto di tutte le persone è che la risposta è abbastanza retorica forse lo era già anche in quei convegni che si è passato tanto tempo a discuterne poco a farla e forse quindi il fatto dell'inclusività del digitale che deve essere inclusivo è un tema che secondo me nel paese che vorrei metterei anche questo lo dico da tecnico del settore che diciamo quale io opero poi ci sono altri di tanti altri sogni ma li teniamo però questo è già un indirizzo senti e visto che qua chiaramente i ragazzi ci possono fare anche delle domande a una già hai risposto che cosa si occupa di precisa l'azienda Cisco più o meno ce l'hai provato a spiegare come lo spiegaresti a tua mamma come dicevi prima quanto è il titolo di studio in azienda da voi in parte hai già risposto però guarda diciamo nel periodo che stiamo vivendo è evidente che prevalentemente la ricerca è di laureate donne e uomini laureate ma non è esclusivo io ad esempio non sono laureato non sono orgoglioso di questo ho iniziato il mio percorso ormai tanti anni fa e ho avuto la fortuna di entrare nel mondo del lavoro in aziende diciamo che guardavano al contenuto della persona al merito della persona ha avuto la fortuna comunque di fare un tipo di percorso devo dire tornando indietro io farei l'università quindi diciamo oggi il mondo del lavoro nel nostro settore cerca tantissimo laureati però non è esclusivo quindi abbiamo anche ad esempio nella nostra organizzazione tanti diplomati in discipline scientifiche noi stiamo investendo tantissimo ad esempio nel dialogo con gli istituti tecnici ma io ho fatto questo che ti volevo chiedere anche immagino che i laureati siano di discipline STEM tendenzialmente visto ciò che fate in azienda quindi prevalentemente scientifico tecnologico matematico magari qualche adesso il caso della laureata in filosofia c'è però tendenzialmente anche economia anche economia sì perché c'è una forte affinità tra quello che sta succedendo dal punto di vista tecnologico ma anche come si stanno trasformando adesso dico un parolone i ragazzi i modelli di business associati e quindi a noi non dispiace non dispiace diciamo la competenza anche nell'ambito dell'economia della gestione diciamo del business oltre a quella della competenza tecnologica non siamo ormai diciamo il mondo del lavoro e la ricerca dei talenti e come portarsi a bordo i talenti è un mestiere complicato soprattutto come sceglierli è un mestiere complicato è evidente che mentre dico questo sono anche consapevole che c'è un lavoro fortissimo da fare nel dare opportunità ai ragazzi che il lavoro non ce l'hanno è chiarissimo però noi viviamo non dico solo come Cisco ma come settore noi abbiamo una fame incredibile di risorse quindi se posso permettermi un suggerimento alle ragazze e ragazze che sono collegati sappiate che chi oggi si forma in cyber security cioè gli smanettoni che si occupano di difendere le pubbliche amministrazioni le imprese sugli attacchi del cyber crime trovano lavoro in giorni non è l'analisi del futuro adesso mentre parlo ci sono circa 250 mila posti di lavoro aperti perché il nostro settore non trova le competenze quindi tutto il tema dello STEM dell'attenzione a quel tipo di percorso di carriera io lo suggerisco perché siamo solo all'inizio e ascolta tu adesso hai tirato in ballo giustamente questo per esempio di professione ma so che ce ne sono altre due o tre che forse meriterebbe citare qui per dire che anche su quelle c'è un'offerta incredibile perché è vero che è un problema di incrocio domanda offerta le aziende danno un'offerta di questo tipo di professioni ma a volte fanno fatica a trovare ragazzi che hanno quelli tipi di competenze attitudini poi è difficile riuscire a selezionarli insomma le tematiche sono tante anche uno dei motivi per cui ho voluto un progetto come quello di Open Doors che grazie alla RAI poi passerà anche sui canali di Rayplay per riuscire a provare a fare un orientamento sulle nuove professioni perché è difficile oggi per un 18enne se non ha una famiglia dietro che è una famiglia che ha visione che è molto preparata a riuscire a capire qual è l'indirizzo e allora tu hai citato questo citami ne altre due le tre quattro professioni più ricercate secondo te in questo momento diciamo uno torno lo smanettone ci piace vi piace ok quindi sviluppatori di software c'è grandissimo fermento dal punto di vista di richiesta di personale su questo l'altro è un po' tecnico ma penso che ormai è un po' nelle corde anche dei ragazzi e si chiamano gli architetti del cloud cioè chi ha chi ha la competenza di sviluppare applicazioni nel mondo della nuvola che sono ormai diciamo tutto il mondo del software dello sviluppo è in questa si dice nel cloud e anche lì c'è grandissimo grandissimo interesse poi l'ultimo che è molto prossimo alle tante meravigliose aziende del nostro paese tornando a quello che dicevi quando ci siamo diciamo a dei lavori che già facciamo chi oggi ha capacità e competenze relativamente al digitale nell'industria 4.0 è una risorsa pregiatissima definire se posso chiedertela esemplifica ancora di più il messaggio perché chi ha competenze digitali nell'industria 4.0 il perito meccanico che ha competenze che fa anche sviluppare ecco ad esempio cioè il perito meccanico penso che è una disciplina diciamo comprensibile ok ecco adesso lo dico una battuta se quel tornio invece che essere solo il tornio che abbiamo in mente diventasse un tornio digitale quella combinazione è una combinazione fortissima ma come cosa si fa come si fa a fare questo ecco noi l'investimento che stiamo facendo ad esempio negli istituti tecnici e anche in tanti istituti professionali famosi TS ecco noi siamo impegnati nel portare quella competenza a quelle discipline che sono discipline che hanno una lunga storicità e una lunga storia di professionalità soprattutto nel nostro paese ma gli aggiungiamo quel pizzico di digitale di innovazione che consente di creare una competenza che in questo momento è fattore critica di successo per le nostre imprese ed è a mio avviso molto importante soprattutto per le persone ma anche per le aziende perché cercano quel tipo di competenza certo una domanda che in parte ha una critica culturale al paese ma te la pongo ti chiedono se non c'è secondo te un problema culturale in Italia perché in questo paese c'è la concezione che il lavoro per l'italiano medio debba essere fatto manualmente io ho anche forse ne ho parlato con te qualche volta l'idea in Italia è che se produci qualcosa devi produrre il panettiere produce il pane il muratore o chi produce il mattone ti dà il mattone cioè ci deve essere qualcosa di fisico esatto di fisico al termine dell'operazione e che i lavori che richiedono invece quelle che sono competenze più o meno complesse anche dal punto di vista accademico vengono poi un po' bistrattati o comunque considerati persone che stanno in ufficio a far nulla rispetto invece a chi produce effettivamente qualcosa di materiale e poi lamentano chiaramente una discriminazione rispetto a quello con livello stipendiale su questo una considerazione guarda la mia considerazione c'è un fondo di verità su questo culturalmente un po' il nostro paese arriva da questo dobbiamo farci una ragione ci ho detto io penso che dobbiamo essere consapevoli di quello che sta accadendo nel nostro settore e oggi intendo oggi nel periodo che stiamo vivendo in particolare negli ultimi 2-3 anni il digitale è mainstream scusa diciamo se usate la parola di oggi parlano all'esempio di chi fa il tuo mestiere l'enfasi che tu stai stai mettendo nel tuo operato nel corso di questo periodo sul tema del digitale quindi il digitale che prima era esclusivamente per gli addetti al lavoro diciamo addetti ai lavori e il digitale ha un po' di intangibilità nel suo DNA chiaramente ma che sviluppo software che serve il software ecco oggi invece è diventato tema di conversazione politica geopolitica buona parte delle aziende nel digitale hanno fortissima presenza in tutto in tutto il mondo e siamo solo all'inizio e quindi noi dobbiamo avere la capacità di aiutare tutte le ragazze e ragazzi che stanno entrando oggi nel mondo del lavoro che stanno entrando oggi iniziando il loro percorso di studio immaginarsi i nuovi lavori e questo è lo sforzo enorme che noi dobbiamo fare perché buona parte della trasformazione che avverrà dopo la pandemia l'abbiamo già parzialmente vissuto avrà tantissimo digitale a me ad esempio appassiona questa combinazione perché ha a che fare con i nuovi lavori tra che impatto può avere la transizione ecologica nel nostro paese e come il digitale può aiutare la transizione ecologica e che lavori nuovi cioè quelli che chiamiamo adesso i green jobs i lavori verdi saranno quelli che metteranno pianteranno alberi da tutte le parti o saranno le donne gli uomini gli ingegneri che renderanno le energie rinnovabili più fruibili a tutti i cittadini italiani e quindi saremo in grado grazie a quelle competenze a quei nuovi lavori di creare un paese più verde e più sostenibile ecco questa conversazione e noi dobbiamo essere capaci a non farla diventare solo la conversazione tra dette e lavoro ma renderla sexy rock semplice non chiuderla all'interno della convennistica di qualità nei convegni che si fanno tra persone del tuo livello comunque tra grandi amministratori delegati di grandissime aziende e poi non arrivare all'interno delle scuole perché un po' questo è il tema noi parliamo tra di noi e ci diciamo quali sono le professioni del futuro e verso dove si andrà però puoi portarlo in un istituto tecnico e dire a un ragazzo se provi a prendere questa direzione il mondo va lì e riuscirai a trovare lavoro è altra questione che è il motivo per cui ci ho tenuto anche ad aprire questo canale a provare a disintermediare la comunicazione e a provare a spostare e con te di fatto oggi l'ho inaugurato quell'open doors che stiamo facendo di là in Rai in maniera più strutturata provare a portarlo qui su un canale partendo da Cisco che chiaramente si occupa forse è l'azienda che più è nel settore rispetto all'interesse che è dei ragazzi che frequentano qui il lavoro che state facendo è così importante perché hai detto bene l'orientamento è fondamentale e poi noi dobbiamo imparare a raccontare storie che siano efficaci e una delle storie più interessanti la più insomma quella che comunque mi ha colpito di più a proposito di dare una seconda chance alle persone e cito il nome perché ho la possibilità di citarlo perché poi è diventato anche un libro è questa persona che si chiama Luigi Celeste che nel carcere di Bollate incontra la nostra Academy il protagonista è lui non è Cisco e lui decide di iniziare un percorso diverso incomincia a studiare inglese e incomincia a fare i nostri corsi quelli difficili e li supera tutti a 100 100 100 100 è finito il suo percorso ahimè in carcere si forma ottiene le certificazioni Cisco e oggi gira il mondo ed è responsabile della cyber security in un'azienda italiana multinazionale allora diceva perché ce lo racconti lo racconto perché uno è una dimostrazione di una persona che ha capito che poteva darsi una seconda chance bravissimo due ha trovato un posto che gli ha aperto gli occhi rispetto delle opportunità che prima non riusciva a vedere tre con grande determinazione è riuscito a crearsi un percorso e oggi e oggi ha una nuova vita e questo secondo me è interessante quindi noi dobbiamo riuscire a spiegare ai giovani perché farlo e perché è divertente interessante io penso che se posso permettermi uno spottone pubblicitario non a Cisco ma al nostro settore del digitale guardatelo con curiosità e con attenzione non esclusivamente al mondo dei social ma anche a quel mondo della rete che crea occupazione anche il social crea occupazione chiaramente ma c'è un'altra internet meno conosciuta che è quella che nel corso degli anni ha trasformato il mondo e quella è veramente affascinante in questo periodo qui c'è una domanda un po' diretta ma te la pongo comunque chi non può permettersi degli studi universitari e vorrebbe lavorare quindi diciamo in ambito Cisco o comunque in questo ambito dell'innovazione digitale come può fare per terminarli che cosa deve fare che cosa a questo punto io aggiungo che cosa tu ti sentiresti di suggerire perché oggi anche il tema economico rispetto al terminale degli studi universitari non tutti chiaramente se lo possono permettere anche se rispetto a stati esteri l'Italia sicuramente delle tasse universitarie che sono più accessibili penso ad un paese per esempio come l'America resta però che non tutti ce la possono fare o riescono a concluderli tu invece a queste persone cosa ti sentiresti di suggerire ma guarda io noto innanzitutto c'è un fermento nel nostro settore incredibilmente positivo rispetto al passato che stanno nascendo tantissime start up sono più di 10.000 come nascono queste start up nascono da varie combinazioni o pochi ti sta laureando che dice ma mi è venuta una idea oppure persone che hanno un'idea incominciano a lavorarsi e magari per svariati motivi ad esempio uno economico non riescono a trovare il loro percorso e allora noto che c'è una forte determinazione di tante ragazze e ragazzi nel mettersi insieme e creare la propria start up e noi nel piccolo diamo il nostro contributo nel collaborare con tante di loro questo non vuol dire che è l'alternativa al sistema universitario allo studio io l'ho detto prima e me ho commesso l'errore di non laurearmi quindi non dico non è stata la scelta buona mi laurerò alla fine del mio percorso lavorativo però ecco anche la combinazione di mentre faccio il mio percorso diciamo di formazione inserisco anche un'esperienza tipo quella di collaborare a un progetto diciamo nella creazione di una nuova azienda è anche molto interessante perché crea quella competenza che è unica ad esempio negli Stati Uniti prego scusa scusami se ti interrompo ma visto che prima ne abbiamo parlato prima di partire con la diretta poi adesso un po' la domanda mi tira questa considerazione tu prima hai detto io non sono laureato e mi hai raccontato un po' la tua esperienza mi hai detto non è stato tutto un successo io mi sono resa conto un po' chiacchierando con i ragazzi soprattutto da quando sto in questo ministero che c'è un po' il timore di fallire in quello che si fa e quindi a volte non si prova neanche a partire con una start up perché c'è un po' forse un concetto anche culturale più che legato al timore dei ragazzi in sé è un concetto culturale di questo paese che tende a far percepire il fallimento come una rovina sociale o un pubblico ludibrio quando invece capita semplicemente che nella vita non tutto sempre funzioni al primo colpo io per esempio ho intervistato anche una ragazza che ha aperto una start up per la programmazione di un videogame per i povedenti e lei mi ha detto non è che è stato tutto così facile lineare abbiamo sbagliato due volte però poi alla fine siamo riusciti a trovare il percorso giusto visto che anche tu hai accennato al fatto che non tutto è stato così lineare nel tuo percorso diciamo che il nostro modello non è molto cioè se faccio la comparazione di come è cresciuto il modello americano e comparo questo cioè il tema del fallimento noi non arriviamo proprio da una storia di successo in questo però noto che questo tipo di atteggiamento soprattutto nel mondo dell'innovazione io mi riferisco all'Italia quando dicevo prima più di 10.000 startup un po' questo se l'è tolto come cioè è normale nel nostro settore che tu provi crei hai un'idea la persegui poi dopo magari torni indietro poi dopo trovi qualcun altro e dici ma forse lo sta facendo meglio diciamo che sta pian pianino sta radicando comunque questa idea dell'aumentare la percentuale di tra virgolette di rischio mi prendo del rischio e poi recepito dal nostro modello organizzativo di paese non ancora c'è tanto lavoro da fare certo però sono confidente che siamo siamo sulla strada buona lo vedo perché ne parlo con i ragazzi le ragazze con le quali noi collaboriamo e sono tante e devo dire che questo tema è meglio diciamo affrontato anche dai ragazzi si sentono più predisposti a rischio questa è una domanda anche che fanno i ragazzi ma effettivamente te la volevo porre anch'io secondo te potrebbe essere importante introdurre il tema della cyber security in alcuni corsi universitari perché il ragazzo che ci scrive dice di essersi laureato in una magistrale in management e non si è nemmeno accennato al tema e allora anche qui un po' forse la formazione dei formatori quindi andare a formare quelli che poi formano i ragazzi su determinati tipi di ambiti provare ad innovare il modo di insegnare ma anche introdurre dei corsi come questo probabilmente potrebbero aiutare anche maggiormente perché allora ci sono nel sistema universitario ci sono dei corsi sulla cyber security me ne viene in mente uno perché stiamo dando una mano l'università Bocconi e il Politecnico di Milano hanno creato per la prima volta collaborando insieme il cyber risk quindi c'è una laurea magistrale proprio su questo tema noi abbiamo più di 5.000 ragazzi che formiamo ogni anno sulla cyber security e quindi un po' bisogna informarsi però ha ragione quando dice che dovrebbe essere il corso base per tantissime discipline cioè come essere più consapevoli del rischio sulla cyber security come utilizzatori ma anche perché questo è un po' il percorso che stiamo facendo su questo tema un paese che è più consapevole sui rischi della cyber security si protegge alla fine diventa un paese più competitivo allora ti faccio un'altra domanda perché qua arrivano quindi mi sembra anche giusto perché così creiamo un po' di interazione se no ci sono solo le mie allora mi dice buongiorno ho ricevuto diverse proposte nel campo della cyber security quindi anche qui tema che hai sollevato tu da neolaureato in matematica abituato a ragionare a pensare sulle cose ho paura ad andare incontro ad un lavoro che sia meccanico procedurale in quanto più appassionato di ricerca e di innovazione e quindi volevo chiedere alcuni esempi di innovazione di ricerca nel tuo campo che insomma al di fuori dello smanettare diciamo che tu hai usato questo questo termine tecnico e quindi chiedono delle ulteriori ulteriori esempi di innovazione che per esempio si scoffre o comunque il campo diciamo una esattamente il 24 gennaio quindi qualche mese prima dell'inizio della pandemia abbiamo aperto a Milano il centro mondiale della cyber security proprio a Milano in un posto speciale all'interno del museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci quindi fighissimo cioè pensare che mettiamo bello bello per chi i ragazzi che hanno visitato il museo io dico sempre non di visitare Cisco ma di visitare il museo che è bellissimo lì abbiamo proprio la ricerca e sviluppo la ricerca e sviluppo vuol dire che sono persone che recepiscono delle criticità o delle sfide da parte di o di aziende o ad esempio abbiamo una bellissima collaborazione con la città di Milano con la città di Torino e allora abbiamo preso delle problematiche su una parte dell'intelligenza artificiale con Torino visto che è diventata su questo abbastanza un piccolo l'occhiello sì abbiamo collaborato inizialmente sull'internet delle cose e poi abbiamo iniziato la collaborazione bellissima bellissima perché anche lì la sindaca e tutto il suo team hanno scommesso tantissimo sull'innovazione e quindi ci siamo veramente trovati a casa quindi abbiamo iniziato con l'internet delle cose che aveva la componente di sicurezza cioè se è vero che connetto tutto aumenta la superficie d'attacco allora come faccio a proteggermi ecco questo per noi è un esempio di ricerca cioè come faccio a proteggere tutte quelle cose che saranno connesse a internet o l'intelligenza artificiale è un altro grande titolo con Milano la stessa cosa abbiamo ricepito delle loro sfide o delle loro criticità e proprio lì si fa la ricerca sulla cyber security mi dice che vuol dire ricerca? vuol dire capire quali sono le problematiche della città qual è il processo e come attraverso il digitale migliorare in quel caso l'esperienza dei cittadini attraverso diciamo un processo e un'esperienza che è più digitalmente sicura certo c'è un ragazzo che ci solleva un problema dice che un problema serio che sta nascendo nel settore dell'innovazione è il fatto di non ricevere il dovuto riconoscimento cioè spesso soprattutto le lauree triennali si preferiscono poi alla fine dei periti che siano usciti da degli istituti tecnici quasi più per motivi economici che per altro ma questo dipende in realtà poi immagino dalle figure che si cercano non c'è una non so rispondere perché la criticità che noi stiamo vivendo è che noi abbiamo noi intendo noi come settore che noi abbiamo bisogno di personale e quindi quindi non c'è questa discriminazione o meglio non lo vedono non sono così a conoscenza anche parlando con colleghi che hanno in Italia hanno una presenza con un numero di persone decisamente grande io non penso che ci sia questa discriminazione noi diciamo c'è una forte richiesta di trovare persone ragazze e ragazze competenti da portare a bordo questa è la priorità quindi non onestamente non sono così a conoscenza di questo fenomeno non è così forte ok ascolta ti chiedo ancora una cosa poi ti lascio andare perché adesso sono già quasi un'ora che ti ho rubato di tempo ho letto sempre sulla tua intervista di Forbes che è diventata la mia bibbia di oggi perché no scherzi a parte sapevo già tante cose di te però poi lì ho letto ulteriori cose ho letto della piattaforma di WebEx che integra hardware software e servizi che puntano un'esperienza migliore della realtà e che significa che cosa fa questa piattaforma diciamo siamo diventati ahimè siamo diventati tutti esperti di sistemi di videoconferenza e noi non ci siamo mai immaginati un futuro esclusivamente digitale cioè se su chiedi dici ma Cisco è la videoconferenza che bello no chiaramente ci interessa ma noi ci siamo sempre immaginati che il digitale ancora ce lo immaginiamo il digitale deve aiutare l'esperienza fisica a un certo punto e questo è stato un po' il nostro messaggio abbiamo detto attraverso WebEx il nostro sistema di videoconferenza di comunicazione abbiamo l'ambizione di poter migliorare di dieci volte superiore l'esperienza di un meeting solo fisico dici vabbè ma che vuol dire allora immagina ad esempio un servizio bellissimo che a me piace molto che è quello della traduzione simultanea certo quindi immagina il classico imprenditore che costruisce come dicevamo prima quel meraviglioso prodotto che è così bello e questo imprenditore lo vuole distribuire e vendere in tutto il mondo e magari immaginiamo che questa persona non è così competente nel vendere il suo prodotto in tante lingue in giro per il mondo allora immaginiamo che questo imprenditore lo possa fare attraverso una tecnologia che è quella Webex che consente mentre parla come sto parlando io in italiano di fare la traduzione simultanea allora a me piace questo esempio perché è un esempio concreto dove l'esperienza fisica la creazione di un prodotto fisico viene aumentata attraverso un'applicazione digitale che gli consente non solo di connettersi con le persone e fare una riunione ma di utilizzare questi strumenti per aumentare significativamente il potenziale della persona allora tutta quella tecnologia che consente ho parlato dei servizi di traduzione simultanea ma ad esempio diciamo un altro esempio bellissimo abbiamo delle belle esperienze in tante università una su tutte il Politecnico di Milano e di l'Università di Torino dove le classi sono diventate delle piattaforme abbiamo questa telecamera ad altissima tecnologia collegata con la nostra piattaforma di videoconferenza e quando il docente va alla lavagna scrive quando si muove viene diciamo seguito da questa telecamera intelligente e le persone che sono a casa di studenti in videoconferenza sono lì sono tra virgolette digitalmente presenti nella stessa riunione nella stessa nella stessa classe e allora anche lì la classe che era solo fisica è diventata ibrida come adesso diciamo è diventata anzi mi piace molto di più come hai detto te dinamica e quindi è diventato proprio un altro modo di ripensare e di pensare il mondo dell'educazione ecco in questa logica abbiamo l'ambizione di dare il nostro contributo nel rendere questa esperienza fisica e non solo digitale aumentata in modo significativo ultima domanda perché mi hai risposto un po' un po' a tutte una una rapida quasi su cui ti chiedo una risposta sino secondo te le politiche giovanili arrivano da un target che va dai 14 indicativamente fino ai 35 anni fino a che età all'interno di Cisco cercate cioè diciamo che c'è un po' la tendenza a volte quando si arriva verso i 40 a pensare vabbè ormai è andata l'ondata nella quale potevo trovare un lavoro che mi potesse rendere felice mi arrendo a ciò che c'è ma probabilmente invece non è troppo tardi neanche lì per formarsi fare un corso di formazione rapido e provare ad entrare all'interno della vostra azienda cioè considerate ancora diciamo giovani ragazzi in quella fascia di età sia ancora in tempo oppure li prendete molto giovani questa è una curiosità mia rispondo con un tweet quando io dico che il digitale deve includere il digitale deve includere una risposta perfetta ultima ultima domanda che cosa può fare secondo te il governo per aiutare i ragazzi supportarli ancora di più non solo a trovare la propria strada in termini di orientamento e studio ma anche provare ad aprire delle proprie start up o imprese secondo te quindi è più un suggerimento a me che dai il suggerimento a te è di enfatizzare il lavoro che in questi anni è stato già fatto cioè il fondo nazionale dell'innovazione cioè tutti questi strumenti che sono oggi già disponibili ad esempio il tema ma in Italia non ci sono i fondi per creare una start up no ci sono ci sono come faccio a recuperarli perché questa è un'altra leggenda o meglio non è una leggenda arriva da un percorso di tanti anni fa ora le opportunità diciamo per creare un'azienda ci sono allora come sempre dobbiamo imparare a comunicarlo meglio quindi se posso permettermi il suggerimento è continuare questo percorso che stai facendo in modo così semplice portare a bordo le ragazze e i ragazzi che hanno in mente questo di aprire questa porta che gli dà la possibilità di capire come trarre beneficio degli investimenti che state facendo su questo e c'è tanto c'è tanto tra l'altro sì io adesso ho fatto un'indagine mia personalmente perché anche tramite gli uffici ministeriali non riuscivo ad avere diciamo un quadro di tutti i fondi che ci sono ma sono sparsi nei vari ministeri che interessano tutti gli under 35 e li sto facendo mettere assieme all'interno di un sito chiaramente aggregatore unico punto d'accesso perché è impossibile chiedere di andare da un lato sul MISE poi sul ministero delle politiche agricole forestali poi su quello dell'università ricerca serve un unico sito che comunichi in maniera semplicissima quali sono i fondi perché ci sono e come poter accedere in maniera semplice per cui io ti ringrazio tantissimo del suggerimento grazie del tempo che ci hai dedicato che hai dedicato ai ragazzi e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito grazie infinito grazie a te e un saluto a tutti buon futuro ciao ciao